L'Isis, l'Italia invia quattro tornado e 135 militari. Gli aerei e le truppe di terra avranno solo una funzione di ricognizione e di supporto alla coalizione internazionale che combatte l'autoprogrammato califato islamico. Ad annunciarlo davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, il ministro Pinotti, che aggiunge, diamo solo un appoggio, non serve il voto del Parlamento. Renato De Manuele. Quattro aerei tornado con compiti esclusivi di ricognizione e i militari a supporto di questo intervento per una forza complessiva di 135 uomini e l'ulteriore contributo che l'Italia fornisce alla coalizione internazionale anti-Isis. Il ministro Pinotti chiarisce subito che gli aerei non bombarderanno nessun bersaglio e non avranno nemmeno il compito di illuminare aree per consentire ad altri velivoli di sganciare ordigni. Il compito degli italiani sarà quello di individuare dove si annidano le formazioni dell'Isis per consentire un utilizzo efficace dei mezzi della coalizione internazionale e delle forze militari irachene e kurde. L'intervento del ministro divide le opposizioni. Per forza Italia è giusto colpire il terrorismo islamico, purché il Parlamento sia coinvolto e informato delle scelte del governo. Critica Selle che parla di ennesima guerra mascherata da intervento umanitario. E i 5 Stelle attaccano a tutto campo. Il mandare del tornado oggi e parlare di ricognizione è il preludio di sganciare bombe. Qua ci stanno portando per l'ennesima volta in guerra in Iraq e le guerre in Iraq non hanno risolto nessun problema. Qua occorre capire chi finanzia il terrorismo in primis, quali paesi ci sono coinvolti, quali paesi sostengono economicamente l'Isis. La maggioranza invece è compatta nel sostegno al governo. Grazie.